Mi chiamo Davide, studio giurisprudenza. Per me l'università è, oltre che un'opportunità di crescita, comunque un punto di incontro per incontrare molta gente, molte persone, che vengono anche da altre parti d'Italia per aprire la nostra mente. Per quanto riguarda quello che studio, comunque bisogna cercare di viverla con molta tranquillità, senza molta ansia, se no si rischia più di non venirne più fuori.